Liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza Formazione e cultura dal 1861 Il Telesio è anche liceo classico europeo e liceo scientifico internazionale di indirizzo spagnolo Completano l'offerta formativa i progetti PONI, i laboratori di lingue Ed ancora Comenius, i viaggi di istruzione e preparazione ai test universitari Mani da tu! Ti aspettiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!